Oh, ieri a mezzanotte ho visto Babbo Natale, mi ha detto. Non faccio regali, tanti uguali. Ci avete già tutto, vestiti, carzoni, lì micro-on, le televisioni, gli cellulari, gli SUV, PC, ci avete già tutto, ma che te devo da dire? Ma non ti ricordi, d'adolescente, se si bardascio non cerchi niente? C'è Stia Canzio, le commedie dei Brogelli, le paste dei Ceci, le canzoni dei Bommarli, c'è Stia Visaggio, l'Ulux, l'Uglaccia, davanti i pazzagli ausilio alla pace, la tosse con Forza, l'Uvaiolo, l'Adisi, e ora ti sei accorto? C'è Stia la crisi. Però ti faccio un regalo, che sto a tre consigli. Su un piedistallo, i parenti e i figli. L'Obby e l'Amichi vengono a Roda, Mitti per ultimo la Banconota. Famo a capicci che non faccio sconti, sarai più ricco dei superconti. Tenilo a mente e diventaci insonne, sarai più boss di Sergio Marchionne. Dopo questo virtuoso discorso, si è diretto con le renne sul corso. Ho ripensato a ciò che aveva detto, e aveva ragione, a stento lo ammetto. Poi mi è venuto un dubbio strano, ma Babbo Natale parla Tardano? Ho ripensato a ciò che aveva detto, e aveva ragione, a stento lo ammetto. Ho ripensato a ciò che aveva detto, e aveva ragione, a stento lo ammetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.